Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing, due nuovi pezzi direttamente da Vinted da aggiungere alla mia collezione ma prima di cominciare vi ricordo che in info box trovate tutti i link sia per la mia vetrina Amazon dove trovate una selezione di prodotti scelti da me in collaborazione con Amazon e poi trovate anche il link e il codice sconto 7 Potter per acquistare su Pampling magliette, calzini, zaini, costumi e chi più ne ha più ne metta, tutto rigorosamente nerd e utilizzando il mio codice potrete avere su ogni acquisto, quindi il codice riutilizzabile senza minimo di spesa tutte le volte che volete un paio di calzini per ogni ordine e naturalmente il codice è accumulabile con tutte le offerte di Pampling, trovate il link sotto in info box e sempre in info box trovate anche il link per registrarvi su Vinted, per chi non sapesse cosa fosse Vinted o come funziona ragazzi vi lascio qui nelle schede il mio video di quest'estate dove vi parlo di Vinted e di tutte le cose fighissime a tema Harry Potter che ho acquistato con pochissimi soldi ma ragazzi passiamo all'unboxing di oggi su Vinted ho recuperato una cosa che volevo da tanto tempo e che non esiste in versione ufficiale al momento e si tratta della ricordella esiste una ricordella che è questa che tengo qui tra le mani che è stata rilasciata all'interno di una Geek Gear Box quindi un prodotto non ufficiale che viene dall'Inghilterra ma che a me è sempre piaciuta tra le varie ricordelle diciamo che si trovano in giro effettivamente un originale c'è la vendono ad Orlando nel parco divertimenti ed è in plastica con all'interno una lucetta rossa quindi vi ho detto una cosa inesatta effettivamente esiste una versione originale ma quella versione importarla dagli Stati Uniti viene a costare una follia quindi non l'ho mai presa e poi è molto molto giocattolosa anche solo a guardarla anche il packaging della ricordella non mi convince al 100% sembra proprio un giocattolo mentre questa qui in questo pacchetto nonostante non è originale però mi piace molto come è stata realizzata è molto molto semplice intanto abbiamo questo pacchetto che riprende la scatolina che riceve Neville durante la colazione quindi col suo Gufo riprende un po' quel tema lì e poi abbiamo anche il timbro postale qui in alto che riporta la data posta via Gufo settembre 1991 quindi è proprio il primo anno di scuola per Harry, Neville e tutti i loro compagni quindi molto carino questo dettaglio e all'interno ecco che troviamo la nostra ricordella è qui all'interno di questa bustina di plastica non l'ho ancora messa esposta perché aspettavo di farvela vedere visto che è arrivata su Vinted l'ho aperta subito perché mi è arrivata diverso tempo fa ed ecco qua la ricordella è molto molto semplice come vi dicevo però mi piace perché è molto elaborata sopra ha tutti questi ghirigori che riprendono quelli originali in vetro che vediamo in Harry Potter e la pietra filosofale mi piace moltissimo che hanno messo questo cerchio qui in oro attorno vi ripeto è molto semplice una pallina di plastica l'ho pagata a circa 12 euro se non sbaglio ma cercandola su ebay la trovate a prezzi folli oltre 30-35 e io l'ho beccata a circa 7 euro poi vanno messe le commissioni la spedizione sono arrivato a circa 12 euro ce n'era anche un'altra di recente l'ho condivisa su Instagram credo l'abbia acquistata qualcuno di voi tutte le volte che su Instagram becco un prodotto che reputo un affare e che a me non interessa perché magari già ce l'ho come è stato di recente per il mantello dell'invisibilità che stava a 20 euro su Vinted l'ho condiviso e uno di voi l'ha acquistato quindi io nelle storie metto sempre le offerte le cose che becco su Vinted che so possono magari interessare a qualcuno di voi quindi questa mi è già capitata due volte vi dicevo il mantello ma anche altre cose lo specchio delle brame di Primark a 10 euro quindi davvero tante occasioni seguitemi su Instagram Antonio.seria faccio il lavoro sporco per voi e credo che la metterò esposta su questo piedistallo che è quello del boccino d'oro di Running Press come sapete ne ho acquistato un altro di recente per mettere il boccino sull'albero di Natale quindi mi è avanzata la base e fortunatamente va bene con questa questa ricordella quindi credo che proprio la metterò così esposta in collezione e rimane ben ferma sulla mensola quindi ho unito l'utile al dilettevole e sempre su Vinted ho acquistato un pezzo Noble Collection questo è ancora giusto non l'ho aperto perché mi è arrivato ieri e ho deciso di aspettare 24 ore prima di lasciare la recensione al venditore mi danno tre giorni di tempo quindi ho aspettato di fare il video per aprirlo con voi e si tratta del deluminatore ragazzi era uno dei pochi pezzi che mi mancavano di Noble Collection dei pochi pezzi che ho reputo davvero importanti e costa tantissimo spesso non è neanche disponibile su Amazon si trova un po' a singhiozzo ma ultimamente è arrivato a costare 85 euro perlomeno l'ultima volta che ho controllato il prezzo un mesetto fa l'ho beccato su Vinted e mi è venuto a costare completo di spedizione circa 42-43 euro quindi l'ho pagato la metà di quanto l'avrei pagato su Amazon ad esempio ho corso il rischio questo pacco ha anche impiegato più del normale ad arrivare si era ad un certo punto quasi perso poi risaltato fuori il punto di ritiro di Vinted era in ferie quindi è tornato indietro un po' un casino però alla fine è arrivato qui tra le mie mani quindi finalmente possiamo andare ad aprirlo e vediamo cosa contiene questo benedetto pacco e se questo spegnino soprattutto o dell'illuminatore ragazzi sto leggendo Harry Potter e la pietra filosofale quindi ho in mente ancora spegnino perché lì lo chiamano così comunque vediamo se vale 85 euro questo dell'illuminatore vediamo un po' abbiamo della carta e poi abbiamo subito il nostro dell'illuminatore nella foto che c'era su Vinted non si vedeva la scatola speravo ci fosse e c'è quindi questo già un punto a favore del venditore e ecco qui classica scatola Noble Collection dietro abbiamo tutti i loghi codice a barre adesivo del distributore Warner Bros quindi tutto in regola tutto a posto andiamo ad aprire la nostra scatolina che è comunque in ottime condizioni togliamo il velo spero tantissimo che la lucetta funzioni perché io ho dimenticato a chiederlo al venditore e nelle foto non si vedeva quindi era spento spero si accenda altrimenti proverò a cambiare la batteria ed eccolo qui ok c'è ed è già un passo avanti all'interno della confezione è presente il dell'illuminatore sembra integro sembra è molto pesante ragazzi non me l'aspettavo così pesante ed è tutto di metallo anche questa parte qui sembra sembra di metallo o plastica molto dura non lo so però è fredda quindi potrebbe essere metallo e eccolo qui è molto semplice riprende fedelmente quello del film abbiamo qui in alto il tappeto il coperchio del dell'illuminatore che si apre e all'interno nasconde la lucetta qui abbiamo l'interruttore per far sbucare fuori la testolina del dell'illuminatore ed è molto semplice ragazzi non c'è moltissimo da dire è ben realizzato è in metallo ben rifinito non lo so se vale 85 euro secondo me 50 sarebbe già una cifra giusta perché capisco il lavoro capisco i diritti capisco che è in metallo 85 non lo so a volte i prezzi mobile collection non lo sapete sono un po' o bassi senza senso o altissimi senza senso quindi questo è un po' una via di mezzo e andiamo a vedere se si accende la lampadina quindi ragazzi incrociate le dita per me 3 2 1 ok ok non si accende si è accesa ok ragazzi ok non mi hanno derubato è molto molto carino non è neppio nemmeno che un led che sbuca fuori dal dall'accendino ma ragazzi tant'è questa è la replica però è davvero fatta bene è davvero fatta molto molto bene mi piace tantissimo il il meccanismo che fa sbucare la lucetta con questo cappellino di metallo non ho molto da dire è come me lo aspettavo e sono però molto contento di averlo trovato su Vinted perché la cifra spesa mi sembra ragionevole 40 euro e qualcosa ci sta ci sta è una bella replica è pesante fa la sua bella figura esposta in collezione fa la sua bella porca figura esposto in collezione quindi direi che è un acquisto andato a buon fine lascerò le 5 stelline al venditore perché tutto bene non trovo nessun difetto non è rotto non è sporco non ha nessun graffio quindi sono davvero super super soddisfatto è un pezzo che ricercavo da tempo finalmente anche lui entra a far parte della mia collezione tra poco credo che potrò aprire un museo di Harry Potter e cambiare lavoro ma ragazzi non smetterò mai di comprare queste cose perché mi danno tantissima soddisfazione e mi piacciono un sacco quindi non rinunciate mai alle vostre passioni a prescindere da tutto se una cosa vi piace se comprate certe cose vi piace vi fa star bene compratele fregatevene del giudizio di tutti detto questo ragazzi vi do appuntamento prestissimo con tanti altri video ci saranno altri acquisti fatti su Vinted perché ragazzi ho acquistato davvero tantissima roba ultimamente come se prima non l'avessi già fatto e ci saranno tante altre novità anche relative all'albero di Natale vi terrò aggiornati sto già cominciando a creare delle decorazioni partendo da portachiavi altri oggetti ufficiali e non ufficiali ma di questo ne parleremo più avanti quindi mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram Antonio.seria trovate tutti i link utili in infobox lasciatemi un commentino e ci vediamo presto con tante altre novità ciao iscrivetevi al canale